Bilancio positivo per il 2020 della Banca di Pesaro. Il Consiglio di Amministrazione ha appena esaminato l'esercizio di un'annata contrassegnata da un utile netto di 4 milioni che rafforza il radicamento nel territorio dell'unica banca locale. Un bilancio assolutamente confortante secondo il direttore di Banca di Pesaro Paolo Benedetti. Sicuramente è stato un anno complicato da un punto di vista soprattutto dell'ambiente esterno che ha visto la banca ad affrontare situazioni eccezionali come si dice speriamo non ripetibili anche se ancora i momenti non sono dei più semplici. La banca comunque ha reagito in maniera importante continuando a servire il territorio come abbiamo sempre fatto in maniera attenta sia per quanto riguarda le famiglie ma soprattutto per quanto riguarda le imprese mettendo in campo tutte quelle attività che poi sono state anche a livello governativo tra virgolette messe in campo a favore dei settori economici. È chiaro che ci sono determinati settori economici che li stanno risentendo in maniera importante rispetto ad altri ma soprattutto per quello che fanno sul servizio sto pensando principalmente al commercio. Noi non dobbiamo mai dimenticarci qual è la mission di una banca di credito cooperativo che è servire il territorio sempre facendo credito e raccogliendo risparmio sempre nella sana e prudente gestione questo è un principio cardine che mi guida ogni volta entro in banca però non dobbiamo mai dimenticare che gli utili vanno ridistribuiti investendo sul territorio quindi soprattutto sulle associazioni che possono essere sportive culturali e assistenziali e quant'altro quindi per me questo rimane un vincolo che la banca non deve mai dimenticarsi perché questa è la nostra missione principalmente chiaramente la parte economica siamo istituto di credito siamo un soggetto economico che deve rispettare le regole soprattutto in maniera corretta perché dobbiamo salvaguardare la raccolta dei risparmiatori. Io dico sempre noi raccogliamo qua per poi impiegare qua col territorio quindi non è che abbiamo filiali che sono sparse per l'Italia o quant'anno siamo in un territorio circoscritto ma sicuramente molto ricco e la banca vedo che viene sempre meglio riconosciuta come veramente la banca locale purtroppo altri istituti di credito sono scomparsi perché poi sono importanti e sono ed erano importanti anche soprattutto sto pensando agli istituti storici che hanno fatto la storia di questo territorio portandolo poi ad essere una delle in italia una delle zone a livello economico più importanti ritengo